Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti così numerosi. Non facciamo uno spettacolo teatrale, ma vogliamo ricordare la guerra orsogna. Il modo è semplice e originale. Non dobbiamo dimenticare che siamo dei bambini e non vorremmo mai vivere esperienze né ascoltare racconti così crudeli, così sbagliati come le guerre. Siamo partiti da quest'opera meravigliosa, inverno 1943-1944, dipinta alla mano, sussurrata dal cuore del maestro D'Ercole e donataci con tanto amore. Pensate, tutti i bambini che avranno la fortuna di frequentare questa scuola la potranno ammirare, interpretare e raccontare. Oggi la nostra rivisitazione della guerra procederà attraverso i canti popolari come Bonursogni, Lutempe di Cain e Ninnanan, entrati ormai nella tradizione abruzzese. Reciteremo anche delle poesie, narreremo alcune storiche scene di guerra e ricorderemo il complemento al comune di Orsogna della mia taglia d'argento al valore civile. Infine ci saluteremo ricordando che è Natale, finalmente, e lo faremo con la famosissima e suggestiva canzone Happy Christmas. Un grazie speciale al signore Alessandro, a peta di d'oro per l'addoppo floreale e a tutti voi, da parte di tutti noi. Vi presentiamo ora una breve ricostruzione storica dei momenti salienti e drammatici degli avvenimenti Nell'inverno 1943-1944 all'Orsogna, le nostre fonti sono state il racconto dei nonni, il proclama del comando delle gruppe germaniche dell'ottobre 1943, il testo storico, il sogno 8 giugno 1984. La guerra d'Orsogna, l'autunno del 1943, il fronte si avvicina ad Orsogna. Orsogna si trova in una posizione strategica, in cima di una collina sulle rive del Moro. Perciò i tedeschi decidono di fermare l'avanzata dell'esercito anglo-americano a proprie fedi del nostro paese. Il 25 ottobre 1943, il comando delle truppe germaniche ordina lo sgombero della popolazione di numerosi paesi, tra cui Orsogna. Alcuni orsognesi si rifugiavano nelle case di campagna o nell'esercito interno del paese, soprattutto nelle contrade di Feoduccio e San Basile. Altri vanno a piedi a Chieti e poi contro i merci sono trasferiti a Parma, altre ancora non riescono ad aggiungere Parma. Nel dicembre del 1943 fa molto freddo, c'è la nuova. E gli orsognesi nascosti nelle grotte escono soltanto per procurarsi del cibo. Pane, fighi, secchi e grano gollito. Il 5 dicembre 1943, Orsogna, viene bombardato dagli anglo-americani per la prima volta. Nei giorni seguenti seguiranno altri bombardamenti. Molti orsognesi muoiono per le bombe, per le mine e per le malattie. Grazie alla posizione favorevole, i tedeschi resistono agli attacchi dell'esercito anglo-americano. Solo l'8 giugno del 1944, i tedeschi furono sconfitti ed avvadonavano Orsonia. Gli orsognesi tornavano nel loro paese nel 1945, alla fine della guerra. Ma trovano un paese distrutto. Con forza, coraggio e tanti sacrifici ricostruiscono Orsogna. Orsogna è più bella di prima. Per questo, il 5 dicembre 2003, il Presidente della Repubblica ha conferito al Comune di Orsogna la medaglia d'argento al valore civile, con la seguente motivazione. Piccolo Comune occupato per una posizione strategicalmente favorevole dal comando dell'esercito tedesco, impegnato a bloccare l'avanzata alleata verso il nord. Fu oggetto di neumorosi e violenti bombardamenti che popolavano la totale distruzione del certo abitato. Numerosi furono i cittadini che risultarono dispersi. Che perse la vita a fucilanti a seguito l'aspettata rappresale tedesca. O diragnati dalle granate o dalle mine collocate sul territorio. Gli sopravvissuti, con il ritorno della pace, affrontano con pierezza la difficile opera di ricostruzione. Orsogna 1943-1944 Gli sopravvissuti, con il ritorno della pace. Aria marina e area di montagne. Gli sopravvissuti, con il ritorno della pace, affrontano con il ritorno della pace. Gli sopravvissuti, con il ritorno della pace. Aria marina e area di montagne. Gli sopravvissuti, con il ritorno della pace. Noi siamo qui per recitare la poesia, maledetta la guerra. E per ribadire che noi siamo fortunati. Grazie nonno. Applausi La casa a biavola della Saracina si resumì tutta a quella di Mussolino, Luca Temazio, Luca Faschella Larga, in della terrazina a capo. Tra le grotte e la cucina ci riscitevano le persone da ventino. Non bello io, finendo la pace maniavano, quando sono arrivati tutti i desi, tutta armate. A guardate Caterina e Giuseppina. Domani avete venuto a scelta, tanto. Sì, ma che deve andare all'onore. Caterina, zitto, domani non avessi a scelta, a domani ti insasta. Sì, io mi dobbiamo rinforzare a piano. La patria mi ha detto a Caterina. Quando sono iniziati, sono detto ieri mattina. E lo spittiglione gli ha dato anche la mangina. Lo tedesco a padre mi ha buttato, e lo schiaffatore alla faccia mi ha burlato. Nero pallone e lo cappello si ha usato, e nero baracaduto ha regalato. Allora lo soldato si è rinforzato, quando ha visto padre mi ha raggiato. Io mi sono messo a presso le piedate, e sono attraversato tutta la pallata, e la casa di pomiglionare si è arrivato. Ha molto bella figliata, si è rinforzato, e dentro la cucina si è guardata. Sto tedesco, ciò per studiare, perché lo patente della cucina si è piaciato. Lo tedesco cuciniere mi ha osservato, ha scelto fuori e ha apprezzato ma ha chiappato. Ma è arrivato piano piano, e la casa si è arrivata. Il boschetto dice a Maikone, non è puretti come per me. Sono rinforzato le lecce, agli al cano, facendo un segno della coscia e della mano. La pecca è che non molto ora ci sarà. Di lo strulli che sono idate, a lui fosse a balle si è scappato. Madonna me, fammi arrivare la casa. Quando la casa si è arrivata, sono trovata in zimile tutte sudate. Sin cicco, sono dite. Che si è fatto? Lì ti dice che tutto lo porcio si è mangiato. L'ipota mia, la bella grotta è tornata, e lo porcio si è nascosto e intancato. A pantaloni della cardiglia, lì ti dice che lui una testa e una travota è stata, e una bella vacca si è piaciata. All'upe della libera è attaccata. Gino del qua, gino dell'anno, sforiata. La rotta si è sfornata, e la vacca lo forcio si è accasciata. Lì ti dice che la parte è stata, e la vacca lo porcio si è mangiato. E la vacca lo forcio si è accasciata. A quando a quando si è fatti i giorni, è la prima luce a andare dentro la stalla. Non va bene quello che ci carico, si vuole intorno e intorno ai dici. Che freddo mamma mia, che mare pare, che freddo mamma mia, che mare scala. Sì ma, lì lì ne gli irrapparare, e costa per cattare. E l'asile, andò finito? Porta la mitraia sopra lo campo di battaglia. E l'uomo? E lì ne è mangiato. 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 Almeno qui in la riva. E lì è impossibile, perché non ci sta la stella che non ci va. Vediamo che il libro è stata scompa e spostata in una cattedra. E il libro è stata scompa che coriore nell'epoca. E lì ne è mangiato. E lì ne è mangiato. E' un po' che ha scompa che tutti li hanno passati. E lì ne è mangiato. E allora dopo. E poi? E lì ne è mangiato. Tutto lo campo di battaglia combatti. La manca è subnavurante, che si va per mancare la terra. Muovi, tu prendi solo un piccino e l'altra gente. Guarda lo cabano, si vede lì l'armo degli bombardamenti. Lì sì, ne firma, che dice nei libri. Lì sì, ne ricannonati che spacca la terra. Tu mi vuoi venire a casa, il cuciere amare. La manca è di Dio, s'aspetta e profita il cuore. Lì sì, ne s'asrugate, rupi che mi non faccia d'or. La raccima mare, perché nasce la raccima, l'orci per il cuore. Grazie. La raccima mare, perché nasce la raccima, l'orci per il cuore. La raccima mare, perché nasce la raccima, l'orci per il cuore. La raccima mare, perché nasce la raccima, l'orci per il cuore. La raccima mare, perché nasce la raccima, l'orci per il cuore. La raccima mare, perché nasce la raccima, l'orci per il cuore. La raccima mare, perché nasce la raccima, l'orci per il cuore. La raccima mare, perché nasce la raccima, l'orci per il cuore. La forma scelta per presentarli alla comunità è stata quella del giornalino storico. Un giornale, cioè, ambientato ai temi degli avvenimenti, per sfruttare un mezzo di comunicazione attuale e coinvolgente e favorire ogni disfansione sull'argomento di studio. I ragazzi, durante un laboratorio comediano, hanno ascolto approfondite ricerche, sfruttando tutti i mezzi a loro disposizione, compresi internet e, naturalmente, i testimoni diretti. Poi hanno saperito la struttura del testo. L'intenzione è stata puntata sugli 8 mesi tragici della storia della nostra cittadina, dal dicembre 1943 a giugno del 1944, in cui Orsonia è stato oggetto di furiosi bombardamenti. Si è deciso di datare il giornale al dicembre 1944, per comprendere anche alcuni avvenimenti successivi alla liberazione di Orsonia. L'articolo di apertura riguarda proprio la liberazione del nostro paese, avvenuta l'8 giugno 1944, all'opera di un gruppo di patriarcalutisti della divisione Enrico. L'articolo di Taglio Basso racconta il tragico spettacolo che si presentò agli occhi degli Orsoniesi al momento del rientro. Negli articoli successivi, gli allunghi hanno ricostruito sinteticamente gli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale, a partire dal luglio 1943, per inquadrare le vicende della storia locale e il contesto della storia mondiale. Si parla dunque dello sbarco del lato in Sicilia, che ha portato la guerra in casa, e della formazione della linea Augusta, la linea difensiva tedesca che tagliava il cuore a Perlusola, dalla campagna fino a Dottura, passando purtroppo proprio che solo. Si passa poi a trattare gli avvenimenti della storia locale, partendo dal 25 ottobre del 1943, data in cui gli abitanti di Orsonia ricevettero l'ordine di evacuare il paese, in vista dell'arrivo del fronte di guerra, dando via così al tragico esodo chiamato scumamente. L'articolo seguente cerca di ricostruire con l'aiuto delle fonti le uniche due battaglie che si sono svolte nel nostro territorio, gli infurtosi attacchi portati contro la costazione tedesca da parte del 24 battaglione nazionandese, che attaccò in vano il 2 e il 15 dicembre 1943, la prima volta dalla via Berlangiano, la seconda dalla via Ortonese. Gli articoli seguenti hanno avuto come obiettivo quello di ricostruire le vicende umane. Grazie alle testimonianze dei protagonisti di questi eventi, si è tentato scientificamente, a causa della scrittura e del testo, di presentare alcuni episodi della vita degli scordati. I redattori hanno rivolto l'attenzione anche ai nemici che hanno combattuto sul nostro territorio per scoprire che erano ragazzi come noi, spaventati e anche essi stanchi della guerra. Nell'ultima immagine si parla dei nostri errori della resistenza, Aldo Marinucci e Rocco D'Angelo, ed anche dei personaggi famosi, che hanno trovato l'irrugio dello sordo, prima dello sforramento. Il famoso allenatore di calcio, Mr. Gartus e Mariusza Gisburg, sorella dello scrittore ed antifascista Leon Leone Gisburg. Il giornalino si chiude con una bibliografia essenziale per dare modo a chi volesse di approfondire gli argomenti trattati. Grazie dell'attenzione. di parole, di dana che ti dice, di rinchiudere sta cagliore, di lanciere sta pescione, la era libertà vale pura, la era libertà vale pura. Per tutte s'accagnate, lì niente lì pistole, si stregne tra le mani, ma non che passià, sta cittadino, cristiane, e lì nzi sapecchè, l'utempe di caine, ma quanta latura. La persona, le muccelle, il votatore, gli dicesse, di rinchiudere, fratelle, di lanciere in pietà, la era libertà vale campà, la era libertà vale campà. Bravissimo! Applausi 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 Questa poesia venne scritta in occasione di un evento terribile. 'incisione da parte delle Brigate Rosse di Vittorio Pateri, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, era il 12 febbraio 1980. Si trovava, si trovava all'Università Pont Grassapiential di Roma. Applausi Signore trascorreva spesso le sue arcanze a dorsoglia perché la moglie era originaria di queste parti. Questo canto serve per ricordare il suo sacrificio e la sua persona, ma anche lanciare un richiamo, un messaggio, affinché vi sia la pace e non si pratichi la guerra, perché si veda di fronte a noi un fratello, non un nemico, qualcuno da amare, non da uccidere. Solo crescendo nell'ottica del dialogo, dell'accoglienza e della solidarietà si conquista la libertà. L'Utemp di Caino ci insegna proprio questo, per educare l'intenzione del cuore e il ragionamento dell'intelletto alla pace fin da bambini, così da crescere in un orizzonte di libertà e possibilità di vita per tutti. L'Utemp di Caino Quando erano i quadrarelli, la frezza e la caiole stringono tra le mani, solo per pazziare, e dentro la caiole non c'è il citenere. La povera bestiola chiude il pute volare, sento ancora le parole di Tata che mi diceva, li li chiude a sta caiole, li la cide a sta bestiola, dagli la libertà, falle volare. L'autore della poesia ricorda il tempo quando era bambino e ripensa ai giochi della sua infanzia. Andava per i boschi con la sua fionda e una gabbietta in cerca di uccellini da catturare, poi li intrappolava e li portava a casa. Ma il nonno lo spettava sempre e gli succediva di liberare l'animale e farlo vorrare e continuare a vivere. Poi il poeta ritorna con la mente al presente e pensa che oggi tra le mani non ci sono più semplici divertimenti, ma armi che portano al male all'offesa reciproca fino all'omicidio senza motivo e senza senso come era successo tra Cain e Abele. Si pone allora una domanda, questo tempo di odio ma quanto deve durare? Fa allora un paragone tra l'uccello e la persona e subito gli appare l'innanzi l'immagine del bisnonno Tatone, che nella sua saggezza riparlava dell'amore tra fratelli e del valore della vita umana. Non uccidere, ma al contrario, ama, dali la spesa di vivere. Questa poesia è un inno alla vita, all'amore e alla pace. Salva ricordare che non basta che finisca una guerra per riportare la pace, occorre lavorare ogni giorno per educare il rispetto della vita in ogni sua forma. Non si può eliminare la violenza con la violenza, la pace inizia nel cuore di ciascuno di noi. Siamo in un momento passato e noi vogliamo iniziare la pace. Ho dipinto la pace, avevo una scatola di colori, vivi, decisi, vivi e accesi. Avevo una scatola di colori, alcuni caldi e altri molto freddi. Non avevo il rosso per il sangue dei feriti. Non avevo il nero per il pianto degli orfani. Non avevo il pianto per le mani e il volto dei morti. Non avevo il giallo per la sabbia ardente, ma avevo l'arancio per la gioia della vita e il verde per i germogli e i nidi. Celeste dei chiari, cieli splendenti. Rosa per il sogno e il riposo. Mi sono seduto e ho dipinto la pace. Aplausos. Applausi. 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 Happy Christmas, World is Over! Buon Natale, la guerra è finita! E così questo è Natale! E cosa è fatto? Un altro anno è passato, in un nuovo anno è iniziato, e così questo è Natale! Spero che si diverta con il più vicino e il più caro, con il più vecchio e il più giovane! Spero che si diverta con il più vecchio e il più vecchio e il più vecchio e il più vecchio e il più vecchio! E così questo è Natale! Per i deboli e per i forti, per i ricchi e per i poveri! Il mondo è così sbagliato! E così buon Natale! Per i neri e per i bianchi, per i gialli e per i rossi! Fermiamo tutte le guerre! E così buon Natale! E così buon Natale! E così buon Natale! Il mondo è gratuito! Il fuoco di ieri e per i närini e per i jane! Spero che si diverta con il più vecchio e il più vecchio e il più vecchio! Il mondo è una bella vita! è finita, se lo vuoi, la vera è finita, adesso! Avere Merry Christmas, Happy New Year, let's all be salubroquam, we are taking this year. Avere Merry Christmas, Happy New Year, let's all be salubroquam, we are taking this year. Buon Natale! Grazie! Applausi! 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 Ringraziamo i collaboratori scolastici perché hanno collaborato veramente tanto, sempre, Nicola e Silvio.